ciao amici finalmente dopo tanto tempo ci risentiamo occasionissima per la sagra del carciofo 2023 un momento per ritrovarci tutti insieme anche perché qualcuno viene da lontano qualcun altro da ancora più lontano e qualcuno anche da oltreoceano quindi un momento speciale ci ritroviamo qui a cerda come gli anni passati per degustare i prodotti tipici della nostra sicilia carciofi in primis poi ancora l'olio extravergine d'oliva il vino e qualche altra sorpresa per passare insieme una giornata allegra e di tutto riposo come vedete questo è il campo di carciofi da noi proposto notate bene che i carciofi sono ancora tenerissimi e quasi introvabili i carciofi teneri intendo di quelli barbuti con la barba ne trovate a tonnellate ma voi già lo sapete noi gli esperienzi siamo viziati anzi viziosi e perché no anche vacanzieri e festaiori e ci vogliamo divertire mangiando ballando cantando e bevendo insieme a tutti voi per partecipare mi rivolgo soprattutto ai nuovi perché i nostri follower già lo sanno bisogna essere iscritti al canale questa è una festa che si tiene in famiglia la famiglia di experience channel voglio ancora sottolineare che quest'anno si prevede una grossa ondata di presenza umana i carciofi buoni sono pochi quindi vi invito a chiamare il 388 2477 954 per assicurarvi un posto a sedere qui da noi dove potrete rilassarvi e godervi i piaceri della nostra tavola e allora ragazzi ragazze amici amiche follower di tutto il mondo vi aspetto